Senatore Sergio Divina, il maltempo sta causando dei problemi in Trentino, per questo motivo in aula al Senato che cosa ha chiesto? Abbiamo chiesto che il Governo si faccia carico anche di quei territori che apparentemente sono fuori giurisdizione, nel senso che il Trentino ha una capacità di intervenire diretta con pubbliche calamità e decreti, in questo caso per le calamità naturali, salvo non avere però il Trentino competenze in materia fiscale. Dovrà prevedere una geografia e circoscrivere le zone che hanno avuto queste eccezionali precipitazioni, da creare proprio degli eventi calamitosi che toccano il nord Italia in sostanza, ma il Governo dovrebbe inserire anche il Trentino perché il Lago di Caldonazzo è una delle zone più penalizzate, con un livello di guardia più 1,70 m, tutte le attività prospicenti al lago, le attività economiche, che sono sostanzialmente finite, finite sott'acqua, non solo è compromessa la stagione turistica, già tutti gli imprenditori sono al limite della sopravvivenza in questi momenti, ma si pregiudica addirittura la sussistenza, la capacità di stare in piedi per tante di queste imprese. A questo punto aiuti economici potranno essere erogati anche in modo autonomo dal Trentino, se però lo Stato mettesse un provvedimento dove facilita alcuni adempimenti fiscali, facendo slittare qualche scadenza, comunque agevolando fiscalmente queste attività, ho ricordato che inserisca nel suo decreto anche quelle aree del Trentino che in questo momento sono state fortemente penalizzate. Io dico il Lago di Caldonazzo, i comuni limitrofi, ma tante altre aree, le precipitazioni che in pochi mesi hanno raggiunto i due terzi di quella che è la precipitazione media di tutto l'anno, hanno creato disagi non solo al turismo, ma anche all'agricoltura. Grazie.